I complementi indiretti La frase minima è composta da soggetto e predicato, ma le frasi che usiamo per comunicare sono arricchite da molte altre informazioni, espresse dai complementi. La maggior parte dei complementi appartiene al gruppo dei complementi indiretti, che sono spesso introdotti da preposizioni semplici o articolate. Possiamo riconoscerli facendoci delle domande ben precise. Scopriamo i principali e facciamo l'analisi logica. Il complemento di specificazione ha la funzione di specificare meglio il significato della parola a cui si riferisce. Risponde alle domande di chi, di che cosa. La zia di Marina ha comprato un libro. Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa su cui termina l'azione espressa dal predicato. Risponde alle domande Il complemento di tempo indica il momento in cui avviene l'azione espressa dal verbo e risponde alla domanda La zia di Marina, ieri, ha comprato un libro alla nipotina. Il complemento di luogo ci aiuta a capire dove avviene l'azione del predicato e risponde alla domanda Il complemento di compagnia indica la persona, l'animale o la cosa insieme a cui si verifica l'azione del predicato. Risponde alla domanda Il complemento di mezzo indica la persona, l'animale o la cosa per mezzo della quale si compie l'azione espressa dal verbo. Risponde alla domanda La zia di Marina, ieri, ha comprato, insieme alla nonna, un libro nella libreria in centro alla nipotina grazie a un buono regalo. Il complemento di modo indica il modo in cui avviene l'azione espressa dal predicato. Risponde alla domanda Come? La zia di Marina, ieri, ha comprato, in tutta fretta, insieme alla nonna, un libro nella libreria in centro alla nipotina, grazie a un buono regalo.